Sto cos'andò? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh, ho frenato appena a tempo! Lo stavo per mettere sotto sto loro cane, sto loro levriero Ah, non è un cane? E che è? Ah, era un topo! Ma se brisco da topa, com'è che girano sti topi a Roma? Ah, c'è sta monnezza negli interstizi quella che a Napoli chiamava monnezza, non c'è ma monnezza, a Roma Vedo che è stato più attento Ah, invece no, li devo mettere sotto perché così almeno applico il regolamento dell'igiene urbana Se volevo qualcosa che ci fosse questo regolamento Bah! Ma cos'andò?